Negli ultimi anni il mondo della musica è stato investito da una trasformazione epocale. Con l'avvento delle piattaforme per l'ascolto online, l'acquisto dei supporti materiali come i cd è diminuito. D'altro canto, sempre più importanza hanno acquistato i concerti. L'esperienza live, soprattutto dopo due anni di pandemia, è insostituibile. Ma i dischi si comprano ancora? Siamo andati a chiederlo ai fondatori di Audioglobe, una società di distribuzione musicale indipendente, nata a Firenze nel 1993 dal sogno di cinque amici con una sterminata passione per la musica, Nicola Vannini, Simone Rossi, Mauro Ragnini, Enrico Paoli e Sebastian Koch. Com'è venuta l'idea di fondare l'Audioglobe? Si nasce a Firenze esattamente il 6 dicembre 1993, è passato un po' di tempo, per cui il prossimo anno faremo 30 anni. Abbiamo iniziato a casa mia, in una stanza piccolissima a casa mia e poi piano piano... Nel corso del 93, nel 94 ci siamo organizzati, abbiamo cercato una sede, all'inizio piccolissima, anche quella... Era 100 metri quadri, era un negozio di 100 metri quadri, poi nel 96 siamo andati in un sottopalazzo di 350 metri quadri e nel 2002 invece siamo andati qui, che è un po' più grande, come si può vedere. Voi siete un'eccellenza in Italia per la distribuzione, un po' di numeri, quante etichette distribuite, quanti dischi vendete l'anno? Siamo rimasti pochi in Italia a fare questo lavoro, io credo 3, forse 3, 4, proprio distributori... Distributori indipendenti puri, sì. Indipendenti pure, perché praticamente possiamo distribuire oltre 200 etichette, ovviamente non tutte hanno lo stesso valore, ci sono le etichette ovviamente più importanti e altre un pochino meno, perché sono più piccole. Però, diciamo, tieni conto che si importa e si vende, cioè si importa tipo circa mezzo milione di pezzi l'anno e se ne vende altri tanti. Voi vendete non solo in Italia, ovviamente. Facciamo anche un po' di export, ma è il 15% di tutto il nostro fatturato, e la nostra attività principale è quella di distribuzione, di distribuire queste etichette. Si dice che in Italia non si vendono più i dischi con l'avvento delle piattaforme digitali, ma insomma voi smentite questa diceria? Se ne vendono meno, negli ultimi anni è ripreso un po' il vinile, perché chiaramente non è la situazione degli anni 90 o neanche degli anni 10, 0, 0, 0, 0, 0, 10, però si cerca di reggere. L'azienda è un po' più piccola di un decennio fa, non come dimensioni del fondo, ma come numero di persone che ci lavorano, però si cerca di tenere botta e di andare avanti. È chiaramente molto più difficile e impegnativo, però ormai questo è... Non credo che passerà mai una cosa del genere, insomma. Ci sta che fra un po' possa... Bisogna anche il cd, come è ritornato il vinile e anche le cassette. Voi che avete il polso della situazione, quali sono i gruppi che si vendono di più? Fra quelli ovviamente che voi distribuite, sia internazionali che nazionali. Ogni tanto ovviamente distribuiamo titoli che vanno in classifica, come è stato per i Plasibo, come è stato per i BTS, però mi ricordo una volta che i Plasibo erano in classifica, erano i primi stranieri fra una ventina, nelle prime 20 posizioni. Di artisti domestici, sì. Di artisti domestici, come dire. Abbiamo anche di artisti domestici che sono andati in classifica, tipo settimana scorsa c'era il vinile di nada, era in classifica nella vendita dei vinili. Spiegatemi un po' come funziona qua, c'è un ordine in questo house, prima domanda. Seconda domanda, qual è proprio il vostro lavoro giornaliero? Il magazzino è mappato in modo che quando noi importiamo gli ordini a sistema ricalca come vengono fatte le stampe, cioè io con un ordine cartaceo stampato in mano inizio da una parte del magazzino e quando arrivo in fondo ho controllato tutto l'ordine e non devo fare 10.000 viaggi avanti e indietro. Il nostro lavoro quotidiano varia a seconda delle mansioni, c'è chi si occupa principalmente dell'importazione, chi poi chiaramente fa le vendite. Diciamo che da quando siamo rimasti in meno alcuni ruoli sono saltati e ci sono diverse figure giolli che fanno un po' di tutto, dalle importazioni fino a chiudere i pacchi quando c'è bisogno e siamo in emergenza. Vendiamo a vari tipi di clienti, tipologie di clienti, potrebbero essere le catene che adesso purtroppo sono rimaste in poche, cioè è rimasto a Feltrinelli e tutte le società ad essa collegate. Poi altre catene con cui lavoravamo prima, tipo Media World, adesso se uno va a vedere Media World c'è rimasto forse un metro. La classifica, i primi 20 titoli in classifica, poco più Mondadori, una cosa analoga. Sì, quello che sono importanti e sono rimasti importanti sono i negozi indipendenti e siamo contenti che ce ne siano ancora tanti e ce ne sono diversi che sono 40 anni che sono aperti. Dove ci sono persone che sanno lavorare riescano anche a contrastare lo strapotere di Amazon di questi ultimi anni, chiaramente lavorando di fino perché non possano competere magari sul discorso prezzi o velocità del servizio, però dove ci sono persone capaci riescano a trovare le particolarità che magari Amazon ha più difficoltà a reperire. Voi avete anche un lato di produzione, vi occupate anche parallelamente di produzione? Sì, ci piace anche quello. E come scegliete i gruppi da proporre? Dipende, molto dal punto di vista, dalle sensazioni della musica che producono. Altro da, diciamo, come dire, anche il nome, per esempio. Ultimamente, non facciamo tantissime produzioni, ultimamente le produzioni fatte è quella di Nada, a cui siamo affezionati ormai da diversi anni. Poi abbiamo fatto Hugo Reis, abbiamo fatto Don Antonio, fra cui anche questo è uscito da pochissime settimane, perché era una parte la colonna sonora di Vanna, il docufilm di Netflix. Poi il nostro crooner preferito, Fiorentino, Max Larocca. Uscito Comanesci, settimana scorsa. Sì, non abbiamo una cosa, non abbiamo un determinato modo per fare, per decidere cosa fare. Non ne facciamo tanti, quello di sicuro. Anche perché ovviamente... Lo spaziamo abbastanza, se le cose ci piacciono, non è che l'etichetta ha una linea ben precisa, insomma. Contano molto, conta la musica, contano molto anche i rapporti con le persone, diamo valore anche se ci troviamo bene con gli artisti con cui collaboriamo o meno, per cui insomma sono molteplici fattori al di là del lato strettamente artistico. Noi siamo nati perché e facciamo questo lavoro perché siamo tutti appassionati di musica. Cioè bene o male, no, senza bene o male, tutti noi frequentavamo quel negozio e ovviamente poi dopo ci siamo andati anche a lavorare e abbiamo fatto... C'era comunque chi suonava, chi metteva i dischi, ognuno a modo proprio a di là del commercio aveva precedentemente o delle frequentazioni molto assidue con la musica. Sì, infatti una cosa che per esempio a me non piace è quando mi diano ma se è un imprenditore no, no. Sono strano. Non ci piace questo lavoro. Noi siamo appassionati di musica e poi... Hanno trasformato, hanno avuto la fortuna di trasformare una passione in lavoro. Esatto. molto semplice. sempre a semplice. Noi siamo appassionati di musica Noi siamo appassionati di musica